Salutare Cerra, lei aveva presentato qualche settimana dietro una mozione in merito alla gestione totale del campo sportivo Vincenzo Presti, mozione che ieri è stata approvata dal Consiglio Comunale. Le chiedo subito cosa accadrà che da oggi il gelacalcio è proprietario dell'impianto sportivo di Contrada Giardinelli? La mozione prevede intanto il contenzioso tra il Comune e la Limonta, che è la ditta che ha fatto il Manto Erboso. C'era un contenzioso e ieri l'amministrazione ha dichiarato in aula che questo contenzioso si è chiuso positivamente, quindi la Limonta può iniziare i lavori del rifacimento del Manto Erboso, dopodiché sempre la stessa mozione parla di ristrutturazione dell'infermeria, dello stabile dei giornalisti, del settore giornalisti e quindi anche del rifacimento in parte dei bagni pubblici e della curva. Facciamo una domanda più diretta, è il Gela che si occuperà in toto della gestione del campo? Noi diciamo che intanto la mozione è un atto di indirizzo, in questo atto di indirizzo abbiamo suggerito all'amministrazione che può essere il gelacalcio a gestire e quindi poi sembra l'amministrazione cercherà i modi e criteri da stabilire con il gelacalcio in modo tale che non graverà alle casse comunali, quindi questa è una cosa che aspetta l'amministrazione. Noi come Consiglio Comunale, ieri all'unanimità dei presenti, abbiamo dato, abbiamo suggerito e quindi abbiamo votato un atto di indirizzo che suggerisce all'amministrazione di parlare con la prima società calcistica che abbiamo a Gela. Dunque le altre società che volessero recarsi al campo sportivo Vincenzo Presti per gli allenamenti o le partite dovranno rivolgersi al Gela? Ripeto, sono criteri che sceglierà l'amministrazione. Ovviamente il campo è un campo pubblico, possono giocare tutti, sicuramente abbiamo una seconda struttura sportiva che è quella dell'Enrico Mattei che giustamente potrà essere utilizzata dalle società minori, poi sarà evidentemente sempre l'amministrazione a scegliere, a decidere le modalità per come affrontare meglio la situazione. Ma il restyling vero e proprio dello stadio, del campo, del treno di gioco, malmesso purtroppo, quando partirà? Considerando che poi alla fine sia la rimonta che l'amministrazione comunale hanno trovato se vogliamo un accordo. Infatti la priorità della mozione riguardava solo l'omologazione del mando erboso e questo mi ha assicurato tutti ieri l'assessore Morello che partiranno i lavori ben presto, quindi anche entro la prossima settimana. Mentre per quanto riguarda la struttura, in questo momento la gestione è del comune, quindi è il comune che deve prendersi l'obbligo di fare lavori. Poi se trovano un accordo o parlano con delle società, in questo caso come abbiamo fatto ieri, abbiamo suggerito di parlare con il gelacalcio e saranno altri a farlo e quindi non aggravare le spese comunali, secondo me ben venga.